Le regioni entro la fine dell'anno dovranno recepire formalmente il Piano Nazionale per le Malattie Rare 2023-2026 e dovranno revisionare la Rete Nazionale per le Malattie Rare. In vista di questi passaggi, che attuano i contenuti del testo unico, Uniamo, la Federazione Italiana delle Malattie Rare, con il contributo non condizionante di MSD Italia, ha organizzato un evento per fare il punto sul nuovo Piano Nazionale Malattie Rare. Noi ne parliamo con Annalisa Scopinaro, Presidente di Uniamo. Perché Uniamo ha patrocinato l'iniziativa di oggi? L'iniziativa di oggi ci sembrava interessante per mettere insieme la politica e anche le istituzioni tecniche, perché c'era anche la presenza dell'Istituto e del Ministero, nel cercare di capire come si procede dall'approvazione del Piano Nazionale alla realizzazione di questo nelle varie regioni. Ora l'iniziativa passa alle regioni, quale ruolo avranno? Le regioni hanno un ruolo fondamentale perché devono mettere in campo tutte quelle iniziative che servono per raggiungere gli obiettivi del Piano. Hanno dei fondi stanziati per questo, i primi 25 milioni arriveranno al momento in cui saranno stanziati i fondi, ma soprattutto quando le regioni avranno recepito il Piano e la riorganizzazione della rete nazionale con l'implementazione delle reti ERN all'interno. Da quel momento in poi i progetti dovranno partire per poter arrivare a raggiungere gli obiettivi attraverso le azioni specifiche. Come accelerare l'attuazione del Piano? Il Piano può essere accelerato in tanti modi, intanto da un monitoraggio costante e continuo del Ministero rispetto a questo, ma anche con iniziative come abbiamo fatto oggi, che richiamino l'attenzione sia politica che istituzionale, cercando di far capire alle regioni che comunque le rappresentanze dei pazienti, hanno delle aspettative che non possono essere deluse. Oggi avete parlato anche del rapporto Monitorare 2023. Quali sono i dati principali? Dati principali ce ne sono moltissimi. Noi da diversi anni monitoriamo quello che succede nel mondo delle rare, partendo dal Piano Nazionale, il primo che era stato approvato. Da quest'anno avevamo anche una rendicontazione del nuovo piano che era stato approvato da pochissimo. I dati sono relativi al numero di farmaci orfani approvati, a come procede l'assistenza, al numero di PDTA, a tutto quello che serve per la realizzazione proprio della qualità di vita delle persone con malattia rara. È un rapporto unico nel suo genere e l'unico realizzato dalla rappresentanza dei pazienti.